Questa estate l'assessore ai lavori pubblici Teodoro Medaglia, di concerto con il resto dell'amministrazione, ha fatto eseguire una serie di lavori alle scuole di Castellamonte, illustrati lunedì scorso in conferenza stampa dal sindaco Pasquale Mazza, dagli assessori Chiara Faretto e Patrizia Addis e dal consigliere Alberto Pautasso, assente lo stesso medaglia per motivi di salute. Innanzitutto sono stati ristrutturati i bagni della scuola elementare per un costo di 300.000 euro a base d'asta. I lavori si sono resi necessari in quanto gli stessi risalivano gli anni 50, sostituite anche le porte che erano in cattivo stato. Durante l'esecuzione dei lavori la soprintendenza ha richiesto la verifica di eventuale sussistenza di amianto nei mastici delle finestre. La verifica e le relative analisi sono costate 8.000 euro. Ne è stata trovata traccia in una finestra delle scale e in altri posti non a diretto contatto con i ragazzi. Per tutela sono state quindi effettuate ulteriori analisi dell'aria e non è risultata traccia. E' stato inoltre effettuato l'indice di vulnerabilità sismica al costo di 11.170 euro con intenzione di fare una mappatura di tutte le scuole dal punto di vista antisismico e antincendio. Tutto questo va a incrementare il punteggio del bando della regione Piemonte per le scuole elementari, nel quale Castellamonte si è posizionato al 119 posto e il prossimo anno verrà ripresentato con l'aggiunta di questi aspetti. E' stato inoltre effettuato l'efficientamento energetico delle scuole Frazione Spineto con la sostituzione dei corpi illuminanti in tecnologia LED, per un costo di 8.000 euro, scelta che oltre a preservare l'ambiente garantirà un notevole risparmio energetico annuale. Rimosso nel periodo prescolastico il contosoffitto della palestra Cresso di Vietrabucco, rovinato dalle pallonate ed è stata lasciata la rete per sicurezza. E ancora la sostituzione dei corpi illuminanti. Sostituite le valvole termostatiche di tutti gli edifici scolastici. Alla scuola Cresto la centra di antincendio e i termoventilatori che erano posizionati nell'atrio. Sostituite anche i tavoli e sedie della mensa della scuola media, inseriti nell'apparto della mensa a zero costo per il comune.